Ecco il continuo della storia. Allora, come dicevo, vado via di casa, sono da mia mamma un mesetto, dopodiché inizia la Fashion Week, io lavoravo ancora nella moda e quindi avevo preso una casa a Milano con altre ragazze per fare tutte le sfilate, eccetera. Quel weekend andiamo a Monte Carlo e quando tornavo da Monte Carlo era iniziato il lockdown perché è stato così improvviso a Milano. Quindi torno da mia mamma, sto lì, però non potevo in realtà stare lì perché alla residenza ce l'avevo ancora a casa mia, quindi vado a casa mia. Sto lì nel periodo del lockdown, poi verso la fine mi propongono un lavoro a Milano, mi danno una casa su Milano perché dovevo fare lì un lavoro e dovevo stare lì e quindi vado a Milano. A maggio, diciamo, sì, era maggio, era quasi fine maggio, mi propongono un lavoro qua ad Alba in Piemonte e niente, vengo in Piemonte, dove in teoria dovevo restare solamente un giorno. Ovviamente non andò così, dato che sono ancora qua, ma di questo ne parleremo in un altro video. Quello che volevo precisare è che durante tutto questo periodo io avevo assolutamente bisogno di stare da sola e infatti il lockdown per me è stata una mano dal cielo perché avevo bisogno di stare da sola e concentrarmi su di me. Leggevo e guardavo tanti di quei video, leggevo anche sette libri alla volta perché avevo proprio bisogno di sapere. Avevo appena iniziato a scoprire la spiritualità, volevo scoprire che cosa mi stava accadendo, capire, e quindi divoravo video, film e libri a non finire. Nel frattempo, in quei mesi, avevo iniziato tantissimo a curare le mie ferite, le cinque ferite dell'anima. Avevo curato anche la ferita primaria, con delle letture, con delle cose. Comunque sì, mi ero proprio dedicata tantissimo a me stessa perché avevo l'estremo bisogno di conoscermi e non riuscivo in realtà a fare nient'altro, ero totalmente concentrata solo su questo.